Infatti ho detto che è un bel comportamento, sinceramente. Sono venuto a posto per la mossa, ho detto faccio intera e faccio vedere la mossa. Ho detto che è anzi. No, infatti, questo è assolutamente importante. Comunque voglio dire... Ma io penso che... Ma se già, voglio dire, le iniziatro... Cioè, se c'è dopo un intanto qui qualche mostra, poi magari dà c'è... Voglio dire, non serve tanto a... Però si... Tutti hanno... Cioè, io ti dico, freccamente, è pieno di... Esatto. Perché o lo so scrivere in uno spazio... Perché comunque è chiuso... Cioè, lei non ci si è resta aperta... La mia è qui, qui, sopra... Questo, sopra, ancora... Per esempio... Ti dà un senso proprio di... No... Io mi guardo... Anche... Giardini di... Giardini di... Giardini di... Giardini di... No... Chi... A... Giardini di... No... Oh... Giardini di... Giardini... Grazie. 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 Grazie.